Il consigliere regionale Pettinari non conosce il settore dei trasporti e crea falsi e infondati allarmismi. Con una nota firmata dal presidente Gianfranco Giuliante, tua SPA rimanda al mittente le accuse lanciate dall'esponente Pentastellato due giorni fa con una manifestazione davanti alla sede dell'azienda dei trasporti regionale. Abbiamo comunque provveduto a girare molte delle critiche del consigliere Pettinari, si legge nella nota, ai responsabili del governo nazionale giallorosso di cui pure il suo movimento fa parte perché le lamentele investono direttive proprie della presidenza del consiglio dei ministri e della ministra dei trasporti da tua pedisseguamente applicate. Per Pettinari ci sono ancora poche corse in giro e gli autisti sono operati di incombenze perché oltre che guidare devono sanificare il posto di guida e controllare se chi sale sugli autobus ha dispositivi di protezione individuale e rispette il distanziamento. Tua condivide questa osservazione dice Giuliante ma il suggerimento di impiegare personale amministrativo a tal fine è inapplicabile poiché questi dipendenti non hanno titolo giuridico né per sanzionare o impedire comportamenti non in linea con le previsioni di legge né tantomeno competenze di natura sanitaria. L'utilizzo ridotto dei mezzi Tua ricorda poi Giuliante è imposto da una previsione specifica di ordinanza ancora in vigore ed è una richiesta curiosa se si considera che ad oggi la presenza di utenti rilevata sugli autobus è pari al 10 per cento di quanti erano trasportati nella fase pre covid. La sanificazione chiarisce poi Tua non spetta agli autisti ma ad una ditta ad hoc ed è necessaria affinché i mezzi possano viaggiare. Agli autisti viene chiesto semplicemente con il materiale messo a disposizione di pulire il volante del cruscotto dopo l'utilizzo per lasciare il posto di guida ai colleghi del turno successivo in condizioni igienicamente adeguate. Un atto di civiltà. Ma le critiche verso la gestione di Tua non si placano e in mattinata è giunto un nuovo attacco da parte del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli per il quale tra corse soppresse autisti in cassa integrazione e mancanza di programmazione il trasporto pubblico locale è ancora alla fase zero. E capita sempre più spesso che i cittadini della provincia di Pescara incontrino un autobus con la scritta completo. Voi sapete infatti che ci sono dei meccanismi restrittivi per evitare per favorire il distanziamento cioè a un certo punto l'autobus quando è pieno a secondo della tipologia di autobus si mette la scritta completo e non si fa più salire nessuno a bordo. Ecco proprio per questo noi ci aspetteremmo che invece il numero delle corse forse è raddoppiato e in realtà così non è. È rimasto lo stessissimo di quello che era presente nella fase zero. Così nella maggior parte dei casi i cittadini che incontrano questi autobus si trovano la scritta completo e l'impossibilità di salire. Chiamano Tua al proprio centralino che non risponde mai assolutamente e poi c'è un altro problema che riguarda le persone disabili. Cioè gli autisti di Tua oggi non hanno nessuna disposizione che indichi loro che cosa fare nel caso in cui l'autobus sia completo e c'è un disabile che aspetta invece alla fermata.